tre due sei in diretta dai ciao ragazzi bella per voi da sali senza tempo diego e marco post partita di locomotive mosca lazio vinta lazio 0 3 3 a 0 a casa dei cosacchi noi diciamo 3 a 0 3 al primo tempo invece 0 a 0 il primo tempo tristezza e nervosismo guarda porco giuda che partita per questa ma fa una partita bruttista ragazzi poteva vedere non riusciva a fare azione fatta bene invece sbloccato da due rigorini due rigorini un po rosicato che abbiamo segnato sui due rigori però a fine non mi è fregato quasi niente e due netti il primo io ho fatto ma che sarza dei pezzo di fango di zaccagni invece poi l'ha troncato proprio sembrava che avessi preso la palla e di diciamo di slancio anche lui invece la palla manca la sfiorata no 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 e secondo anche netto immobile il terzo invece un bellissimo gol di petro che vabbè vabbè purtroppo un segnale pirata regale abbiamo provato a sostenerlo ci ha provato a un certo punto ci ha messo un'ora e mezza mette una palla giù però vabbè io ho detto non si fischia basta no ma perché vale più la pena c'è manco più gusto c'è più gusto a fischiarlo raga è basta è così il pirata è mentalmente morto però oggi lo ha segnato in live dicevamo grosso dei cazzagni cazzagni zaccagni e colpa portiere del 2004 forte zubbialos dragoli e forte portiere che abbia fatto chissà che che avevamo fatto tutti rinporta al primo tempo uno acerbite testa centrale e uno con felipe anderson a un'ora centrale per me anderson regà bocciato totalmente se deve svegliare basta cioè ritorniamo davvero ai primi periodi di frip anderson alla lazio che faceva una partita bella e dieci che non entrava in campo cioè io capisco che magari lui c'ha paura a dribbla il difensore che si trova davanti ma se davanti a te c'è una prateria il difensore sta a sinistra non devi passare la palla devi scattare la fascia non lo fa mai non lo fa più infatti cambio con pedro che subito fa quello che fa salta l'uomo fa un doppio passo allarga pezzacagni che si rallunga un po' invece recupera il rigore proprio quello che è mancato tutto il primo tempo con felipe anderson che abbiamo fatto l'inizio può tentare loro ammoniti l'arbitro strano ha fischiato parecchio tu quasi tutto prima ammonito dopo 50 secondi sono davvero dopo cinque minuti e infatti io li sono cagati sotto al ventesimo hanno cambiato il terzino il terzino via ok è un allievo d'inzaghi probabilmente l'allenatore goal beef oppure quella che è stata munita e come acpac pro dipende da come vede la situazione comunque niente allora abbiamo iniziato appunto benino poi ci siamo incartati poi abbiamo fatto una bella parte centrale e poi invece il primo tempo chiuso male con loro che ci provavano quasi però ecco loro scarsi scarsi su cinque azioni che facevano in attacco non sbagliavano 20 passaggi c'erano erano bravi a pressa ma poi se devono concretizzazione rega tiri brutti passaggi brutti scarsi poca qualità c'è quel becca becca è solo quello che ha trovato più palloni un sacco per terra è stato insomma un po più veloce dei gambe ma comunque qualità però niente noi non riuscivamo a concretizzare infatti nervosi dire che ancora con questa cosa del del blocco che non si trovavano aperture ma a certo punto va anche messi male in campo sovrapponevano i giocatori non non si capiva perché passato tempo appunto ci ha eserloccata la partita per questa partita ben d'orica con quell'azione e quell'azione entrato si è smarcato 1 data valla zaccagni rigore al secondo me pare non so comunque a toccata nell'azione era petro petro doveva c'è immobile sta per lanciare uno spazio da solo pedro ha sbagliato il tocco insomma vuoi non vuoi ritornare a palla immobile e rigore netto e e quindi dopo il primo gioco si è sbloccata la partita come come se fossimo diventati la lazio abbiamo segnato ragazzi si può si può giocare a calcio magari lo hanno spinto un po più in avanti sicuro però non ha fatto veramente lo comodo non ha fatto assolutamente niente cioè dopo il primo ne che ha dato un segno di orga domanda attacca assolutamente niente peggio perché ha preso la t2 e pedro poi appunto quel bel gol molto molto bravo e niente non ricordo parlato di stracoscia oppure fatta una non ricordo parati di stracoscia questa la mia nuova migliorazione di sarri vedremo era meglio quella di ormai non si fa più e patrick tignoso ma certo punto si vedeva che faceva le cose alla patrica frota ma anche fatto dei buoni scambi con felipe anderson seriva c'era le finte vabbè sempre patrick patrick tersino difesa bene sarebbe c'è veramente poco da di sua difesa bene basic quantità e male ancora luisa alberto male luisa alberto questa si sbagliato tanti passaggi ancora beh però guarda io posso da troppe cose perché davvero al primo tempo diciamo azzeccato assolutamente niente però per lui c'è tante volte allora giro troppo avanti alberto c'è bisogno di un'altra volta monumento a ciro e partiva si separavano spazi e lui ritardava al passaggio e poi magari passava palladelato tante volte non ha verticalizzato non so perché particolazione spesso sbagliate sui difensori loro i passaggi a mezza potenza smorzati ma di tutti e non solo di luisa alberto per il tempo proprio immobile vanno tranquillamente verso l'area e passavano piano cavolo e lei va non male al primo tempo un poccato un po ma nel secondo non ti è piaciuto no a me non mi è piaciuto però basta per quello che fanno il gioco che fanno i catardi e perfetto c'è catardi perfetto catardi ricopre il ruolo che deve che c'era questa formazione c'è uno che va dietro e poi provochi i piedi e dai palle perché quello doveva far luisa alberto nel primo tempo però posso che stava leva e quindi il servetto era è più propensato avanti e luca se la passava in c'era il tocco di prima che c'è a catardi vabbè ma solo stava ripeto già da due tre quattro partite anche e ancora una volta ti ripeto monumento a immobile e zacca anni si rifà la stessa partita di sempre anche live prima buona prestazione senza spunti clamorosi ci ha parlato un paio di volte andato sul fondo però non in mezzo non c'era nessuno insomma però in leggera crescita probabilmente anche perché ha giocato dall'inizio quindi tende lui tende un po più a rientrare quando sta sulla fascia invece che crossa direttamente a noi non ci serve uno che rientra in realtà quando stai sulla fascia se rientra tira allora esatto se rientra tira però vabbè l'ultima cosa abbiamo provato anche lazzariala esatto piuttosto che non far fare neanche mezzo secondo sul 3 a 0 a luca romero o a raul moro lazzariala ma perché perché non fa entrare romero che dagli minuti capito sul 2 a 0 questi erano scarsi scarsi infatti quello è l'unica rammarico pezzarri però bohman vi ho detto magari volevano davvero lazzaria per sostituire per poro filipe anderson che oggi e le scorrezze delle partite non ha fatto vedere niente però sicuramente stanco per lui perché ha giocato tutte le partite questo vuol dire che tu stai dando fiducia tu stai risalto fiducia a padre il terzino se tu vuoi che c'è marzo c'è marzo di cese a destra si vabbè c'è un altro adattato ala che sarebbe lazzari vabbè alazzo il centrocampista lazzari comunque all'inizio benissimo ha fatto ha fatto sbraga un paio di volte uno ha preso una bella un'altra bella ammunizione però mentre pensavo massimo lazzari potrebbe essere una cosa azzeccata lì se ne parlava inizio campionato una palla e mezzo e fa non so se era un tiro o un cross era un tiro ma l'ha mandata quindi si capisce da roma si capisce che insomma la qualità non è proprio il suo forte e quindi sta a pensare due volte sarri comunque potrebbe essere anche quello una cosa che mette un po' più per culo a felipe anderson vediamo un po' e niente allora il galatasarai vince 4 a 2 nel novantese sono 4 a 2 ma non so che è successo però si si e quindi siamo esattamente sette gol fatti tre subiti tutti e due c'è l'azzo e il galatasarai yes parità se giochiamo tutto se giochiamo tutto a roma io farò di tutto per andare allo stadio a sto punto che andiamo allo stadio a vedere sta partita perché è importante è importante chi ci vuole andare se ci andasse noi proviamo a provere mandarci speriamo che si chi vince anche la scureggia zero passata come primo quindi dopo la cerchia passare secondo su due partite in più che da febbraio o meglio ma io non a ricce quindi dai e marsiglia in siamo qualificati che ma si ha perso marsiglia però anche loro matematicamente in conferenza quindi perché non vedere uno scontro marsiglia romani mi piacere e niente rega anche che ho parlato anche troppo di sta partita forse però siamo contenti alla fine perché anche siamo divertiti un po tifando il gol di murici che non arriverà ma è ormai davvero ci stiamo sperando troppo troppo e purtroppo lo sappiamo che sarà quasi impossibile magari invece si coppa italia un'altra volta come l'altro anno la massa spegne e vabbè berl like per chi è arrivato qui qui e soprattutto per chi è arrivato qui scriva porco dena oppure napi a gelato napi a gelato ci sbrighi per favore che cosa finendo il tempo arrivederci o mi raccomando forse ci vediamo in live per passione napoli la voglia